12 febbraio 1951 Lo Shah di Persia Reza Palavi sposa in seconde nozze nel palazzo Golestan di Teheran la diciassettenne Soraya Esfandiari Bakhtiari. Reza Palavi regala alla futura sposa un diamante di oltre 22 carati trasformando Soraya in fidanzata imperiale per il trono del pavone. Il matrimonio dura solo fino al 1958 quando lo Shah ripudia Soraya perché non può dargli figli. Da allora la bellissima Soraya è descritta dai rotocalchi come la principessa triste.